Scusi, qual è l'infermission? Cioè, io lo faccio. Ovvio. Beh, volevo dire, sappiamo tutti il prossimo brano di che cosa parla. E... Guardate che mi dobbiamo in basso. Questo non ce l'ho. Complicarsi la vita. Dicevo, sappiamo tutti il prossimo... Il prossimo brano di che cosa parla. Quindi vorrei dedicarlo a tutte le persone che non sono qui con noi e soprattutto a una persona, mio padre, che sicuramente avrebbe apprezzato questa serata istonia. Il prossimo brano di che cosa parla. Il prossimo brano. Il prossimo brano. Sì. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti